Noi abbiamo lavorato come sapete da tempo per una svolta e ci siamo arrivati sia con la mobilitazione, iniziativa politica, sia con un'iniziativa parlamentare dell'opposizione. La svolta c'è stata. Abbiamo chiesto in tutto questo periodo che con grande rapidità si affrontasse l'emergenza con l'allestimento di un governo di emergenza di transizione che avesse una forte carattura tecnica e che fosse del tutto nuovo. E' ovvio, riassumendo la nostra posizione guardando i fatti, che noi siamo soddisfatti. Siamo soddisfatti, pensiamo che anche la configurazione di questo governo dia segnali molto evidenti, di competenza, sì, di esperienza, ma anche di sensibilità su grandi temi che ci stanno a cuore. Ad esempio, in particolare, un 10 e lode per la dirimente presenza femminile in questo governo. Noi siamo pronti a dare tutta la nostra collaborazione, il nostro sostegno attivo, perché noi abbiamo proposto quel che abbiamo proposto e abbiamo fatto quel che abbiamo fatto sotto una parola d'ordine, prima di tutto l'Italia, e per mettere noi stessi e la politica in una posizione che non fosse quella di sostenere meno, ma di sostenere meglio. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati a PDA, già avete sentito le parole del segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, che in conferenza stampa poco fa ha dimostrato tutta la sua soddisfazione, non soltanto la sua, ma quella anche del tutto il partito nei confronti di quello che è considerato il nuovo governo, il sessantesimo governo della Repubblica Italiana, un governo a forte caratura tecnica, come ha detto lo stesso Bersani, formato alle 17 ministri, insomma un governo che tra l'altro ha giurato poco fa, con Monti e tutti i suoi ministri davanti al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Proprio stamattina, proprio dopo aver scelto la riserva e aver letto nella lista dei ministri del Quirinale, il Presidente incaricato appunto del Consiglio Mario Monti, ha fatto poi visita appunto al Presidente del Senato Renato Schifani e poi al Presidente della Camera Gian Francofini, è proprio uscito da Montecitorio, c'erano a tenderlo un po' di persone, una folla che insomma lo ha applaudito, lui in maniera molto semplice, ha detto non sono abituato, così ha risposto appunto ai cronisti che lo aspettavano. Ma vediamo proprio questa giornata, soprattutto la mattinata, nel momento in cui ha appunto scelto la riserva fino a poco fa, quando appunto ha giurato davanti al Presidente Napolitano. Il servizio di Beatrice Rutiloni. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. È il Monti Day, il giorno in cui Mario Monti accetta l'incarico e diventa il Presidente del Consiglio del 63esimo Governo della Repubblica. Una lunga giornata, iniziata con un colloquio durato più di due ore al Quirinale, in cui il carattere del professore si fa vedere. L'uomo che ha il doppio compito di traghettare il Paese fuori dalla crisi e di svelenire il prima politico, si presenta alla stampa per annunciare il suo esecutivo e si capisce subito che l'aria è cambiata da questa battuta. Se ci sarà un minimo patrimoniale, in che modo? Se vuole lei può chiedermi. Un tratto di humor inglese, lontano dalle barzellette facili a cui eravamo abituati. Così il neopresidente del Consiglio risponde a chi gli chiede se nel programma di governo è prevista la patrimoniale. Non si sottrae alle altre domande il nuovo Premier. Il suo governo è blindato e durerà fino al 2013? Pensa che riuscirà a modificare l'andamento dei mercati? E sulla questione che ha tenuto Banco nelle ultime ore, quella di un governo tecnico-politico, sono possibili rimpasti? Credo che la blindatura di un governo dipenda dalla sua capacità di agire incisivamente e di spiegare ai cittadini e in primo luogo naturalmente al Parlamento il significato e la portata della sua azione. Questa è la blindatura che cercherò con i miei ministri. Abbiamo operato in tempi brevi e con serietà di procedura e con molta attenzione alla qualità delle scelte e ci sentiamo quindi sicuri di ciò che abbiamo fatto. Abbiamo anche ottenuto molti segnali di incoraggiamento dai nostri partners europei e in genere dal mondo internazionale. È stato interessante e abbastanza impegnativo arrivare a questa formazione del governo. Le assicuro che non prendo in considerazione a questo stadio passaggi in corsa, perché di corsa si tratterà. Il fair play dell'uomo in grigio, che tra domani e venerdì riceverà la fiducia di Senato e Camera, si vede subito, con un pensiero che va a Berlusconi. Desidero rivolgere un cordiale saluto al Presidente del Consiglio uscente, Onorevole Dottor Silvio Berlusconi, con rispetto e attenzione per l'opera da lui compiuta. Con il giuramento di tutti i ministri che compongono l'eseguitivo a guida Mario Monti, il nuovo governo, in attesa di ottenere le fiducia delle Camere, nella pienezza delle sue funzioni, non hanno partecipato alla lecimonia del giuramento due neoministri, Giulio Terzi di Sant'Agata per quanto riguarda gli esteri e Gian Paolo Di Paola per la difesa, perché al momento sono all'estero. Poco fa il passaggio di consegna fra il neopresidente del Consiglio Monti e il premier uscente Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, un passaggio suggellato da una stretta di mano. Ma cerchiamo di capire chi sono esattamente questi ministri, i nuovi ministri del governo Monti. Vediamo la scheda. Mario Monti ha accettato l'incarico di Presidente del Consiglio. Nasce il nuovo governo, un esecutivo tutto tecnico, nessun politico. Il premier tiene l'interima l'economia, i ministri con portafoglio sono 11. Antonio Catricalà, proposto sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Mario Monti, nato a Varese nel 1943, economista e docente universitario, presidente dell'Università Bocconi di Milano, commissario europeo per il mercato interno tra il 1995 e il 1999, commissario europeo per la concorrenza fino al 2004, senatorio a vita dal 9 novembre 2011. Giulio Terzi di Sant'Agata, nato a Bergamo nel 1946, si è laureata a Milano in giurisprudenza, iniziando la carriera diplomatica nel 1973, dal 2009, e ambasciatore italiano a Washington. Anna Maria Cancellieri, romana, 67 anni, è sempre stata al servizio dello Stato, attuale commissario prefettizio del Comune di Parma, è stata anche prefetto di Bologna. Paola Severino, 53 anni, napoletana, oltre ad essere un avvocato penalista molto conosciuto, è vice-rettore dell'Università Luis Guido Carli della Confindustria. Ammiraglio Gianpaolo Di Paola, nato nel 1944 a Torre Annunziata, è presidente del Comitato Militare della Nato, l'organo che riunisce i capi di Stato Maggiore dei Paesi dell'Alleanza Atlantica, e è stato capo di Stato Maggiore della Difesa tra il 2004 e il 2008. Corrado Passera, nato nel 1954 a Como, è l'amministratore delegato di Intesa San Paolo. Nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità in diversi settori industriali, dei servizi e della finanza. Corrado Clini, nato nel 1947, laureato in medicina all'Università di Parma nel 1972. Dal 1990 alla direzione generale del Ministero dell'Ambiente, vanta numerose collaborazioni con l'Agenzia Europea dell'Ambiente e l'ONU. Mario Catania, nato a Roma nel 1952, laureato in giurisprudenza all'Università La Sapienza nel 1975, proviene proprio dal Ministero delle Politiche Agricole, dove ha ricoperto il ruolo di capo dipartimento delle politiche agricole e internazionali. Elsa Fornero, 63 anni, torinese, docente di economia all'Università di Torino, è un'esperta di pensioni e allieva di Onorato Castellino, è stata membro del Comitato Scientifico di Confindustria ed è editorialista del Sole 24 Ore. Renato Balduzzi, nato nel 1955, giurista, esperto di diritto costituzionale, da quattro anni presidente della Genas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. È già stato al Ministero come esperto giuridico del Ministro tra il 1996 e il 2000 e ordinario di giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano. Francesco Profumo, nato a Genova nel 1953, è presidente del CNR e rettore in uscita del Politecnico di Torino, ingegnere, alle spalle, una lunga carriera universitaria. Lorenzo Ornaghi, nato a Villa Santa, Milano nel 1948, dal 2002, è rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, laureato in Scienze Politiche presso l'Università Cattolica nel 1972, dal 1990-91, è docente a tempo pieno, titolare della Cattedra di Scienza Politica nella Facoltà di Scienze Politiche. Antonio Catricalà, nato a Catanzaro nel 1952, è presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal 9 marzo 2005, si è laureato in legge a Roma, è stato segretario generale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Allora, questi ministri, tra gli effetti il punto di un governo ha fatto solo di tecnici, ce n'è uno sicuramente che Mario Monti non ha valutato, l'aula della Camera è diventata troppo piccola per ospitare tutti i deputati, con i banchi del governo impegnati, sarà necessario trovare una nuova collocazione ai ministri e ai sottosegretari uscenti, perché nell'emiciclo ci sono soltanto 623 scranni. Ma torniamo ancora ai ministri, cerchiamo di capire nel dettaglio come è la loro storia, ma soprattutto come potrebbero poi operare in questo loro nuovo ruolo attraverso il servizio di Maddalena Carlino. Come a scuola, vedere insieme la nuova squadra di governo sarà un po' come partecipare ad una riunione dei docenti. I professori sono tanti, dallo stesso Monti a Francesco Profumo, istruzione, da Lorenzo Ornaghi, cultura, fino a Fornero, e poi ancora il giurista Renato Balduzzi, salute, e la Severino, alla giustizia. Una caratura tecnica che, secondo Monti, agevolerà il lavoro del governo. Tra i grandi manager spicca la presenza all'importante Ministero dello Sviluppo Economico da rilanciare alle infrastrutture e ai trasporti di Corrado Passera, amministratore delegato di Banca Intesa. Presenti anche top manager come Piero Nudi e Piero Giarda nella pubblica amministrazione. Una lista che permette già alcune riflessioni. La scelta di tre donne per ricoprire altrettanti delicati di casteri, interno, giustizia e welfare, si fa subito notare. Tanto che alcune scelte potrebbero apparire già come indicazioni di programma. Elsa Fornero, welfare, dovrà far fronte alla riforma del sistema previdenziale. L'interim dell'economia dello stesso Monti, invece, ci dice quanto sia centrale per valutare i sacrifici da compiere sull'altare del risanamento dei conti. Una responsabilità che il professore si assume a 360 gradi. La nomina di Passera, allo sviluppo, non può che sottolineare, invece, il contributo decisivo al risanamento che viene richiesto all'intero sistema italiano del credito, posto nelle ultime settimane sotto pressione dai mercati. Da notare è anche la rappresentazione del mondo cattolico, dallo stesso premier al fondatore della comunità di Sant'Egidio Riccardi, fino al rettore Ornaghi, il banchiere Passere e Balduzzi. La campanella della scuola è suonata, è l'ora del governo Monti. E allora, ma sentiamo, cosa hanno detto proprio poco fa, al termine appunto del loro aggiornamento, alcuni ministri, insomma, che siamo riusciti appunto a intervistare, appunto, Gabriele Aron ha riuscito a catturare le dichiarazioni del ministro Balduzzi, a seguire le dichiarazioni appunto di Profumo e Riccardi. Sentiamo. Appena giurato da ministro, emozionato, che cosa ha provato? Beh, se dicessi di non essere emozionato non mi crederebbe nessuno, quindi certamente il momento è quello che sappiamo tutti, quindi è un momento che richiede da parte di tutti un impegno supplementare, riuscire a fare nell'ordinario delle cose probabilmente straordinarie. E quindi il senso del nostro impegno era palese, anche nei commenti che ci scambiavamo tra colleghi neonominati, proprio, ecco, mettiamoci subito al lavoro. Come governo cosiddetto tecnico abbiamo un'esigenza di trasparenza, abbiamo un'esigenza di informazione, eccetera, abbiamo un'esigenza di fare subito, da subito, una squadra, perché e credo che il presidente del Consiglio, il professor Monti, abbia proprio questo intendimento di dare vita da subito ad una squadra coesa che possa cominciare a ridare una qualche speranza al nostro paese che ha i titoli e i numeri per stare all'attenzione propria internazionale in un modo diverso da quello in cui per una serie di ragioni ci troviamo in questo momento. Cosa desidera fare, cosa immagina fare, cosa farà per la sanità? Beh, questa è una domanda sicuramente che ha bisogno almeno di qualche riunione collegiale del Consiglio dei Ministri perché se è vero quello che ho appena detto che è una squadra che fa le cose con una guida, gli indirizzi che sono quelli dati dal presidente del Consiglio e io adesso le venissi a dire che cosa vuole fare il ministro della Salute sarei contraddittorio con quello che l'ho appena detto. Io spero che questo incarico sia il segnale di un'Italia che riprende la cooperazione, riprende la linea della solidarietà e che gestisce i problemi dell'integrazione in un momento difficile per i paesi perché questo è un momento difficile, un momento di grandi conflittualità e quindi l'integrazione degli immigrati e l'integrazione a livello generale. Ma ora siamo ancora alla prima pagina anzi alla prima riga della prima pagina. Abbiamo incontrato i suoi colleghi che clima ha respirato? Io? Che clima ha respirato? Un clima buono di gente che vive questo come, scusate la parola che non si usa molto ma come un servizio e anche come un sacrificio. Io credo che sarà un governo molto attento un governo competente un governo che dovrà lavorare per il futuro del paese. La scuola pubblica o la scuola privata? Io credo che la scuola sia la scuola ma certamente la scuola pubblica in Italia è una scuola molto importante. Questi erano i ministri alcuni di oro e grande soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il quale ha detto questo governo nasce in un clima positivo me ne compiace e poi è anche sottolineato come dall'Unione Europea già ci siano stati segnali positivi in merito e confida che ce ne saranno altri. La settimana vuole le sue parole. Il saluto e il ringraziamento va nello stesso tempo al Presidente e ai membri del governo uscente soprattutto a quelli tra loro con i quali più intense sono state le occasioni di incontro e di scambio in ragione delle loro funzioni vicine a campi di mia specifica responsabilità e più attenta cura. Uno speciale ringraziamento al Dottor Gianni Letta per la continua e sempre scrupolosa collaborazione istituzionale per la sensibilità la competenza e lo spirito di servizio con cui ha contribuito a tenere il rapporto tra il Presidente della Repubblica e il governo nell'interesse generale del Paese e della coesione nazionale e sociale. Presidente, un governo all'insegna dell'Europa quale si aspetta sarà la reazione dell'Unione Europea adesso all'esecutivo Monti? Lo vedremo molto presto abbiamo già avuto molti segnali positivi di attenzione e di fiducia e credo che prestissimo ci saranno conferme di questa positiva predisposizione delle istituzioni europee nei nostri compiti. E' stata dura? Grazie. E' stata dura, Presidente? E' stata delicata e difficile anche per la sua carica di assoluta novità la costituzione di questo governo ma penso che siamo riusciti tutti insieme innanzitutto incaricato di formare il governo il senatore e il professor Mario Monti in grado di trovare le soluzioni più idonee. L'Assemblea del Senato è convocata per domani giovedì 17 novembre alle 13 per le comunicazioni del Presidente del Consiglio Monti il voto di fiducia a Monti è previsto domani in Senato alle ore 20 e 30 con la prima chiama le dichiarazioni di voto sono fissate per 19 mentre il Presidente del Consiglio riprecherà alle ore 18 e 30 l'ho deciso appunto la conferenza dei capigruppi di Palazzo Madama tra l'altro vi ricordo che domani trasmetteremo proprio la diretta di queste comunicazioni proprio su Udem a partire dalle ore 13 mentre per quanto riguarda la Camera il voto di fiducia è previsto per venerdì alle ore 14 intanto le borse europee hanno chiuso comunque contrastate al termine di una seduta nervosa altalenante segnata appunto dalla perdurante preoccupazione per la crescita dei rendimenti di Stato dei titoli di Stato europeo dopo una giornata altalenante Piazza Affari ha comunque chiuso in positivo a più 0,79% mentre lo spread è sceso a 519 punti ma torniamo appunto alle parole che ha espresso il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani proprio su questo governo Monti questa operazione sentiamo cosa ha detto proprio su Monti io riconfermo qui la disponibilità e l'intenzione del Partito Democratico di costruire ogni possibilità perché nella sede parlamentare prendano vita processi di riforma a cominciare da legge elettorale riduzione dei numeri parlamentari regolamenti di Camera e Senato e così via dicendo questa è un'occasione da cogliere anche per la modernizzazione del sistema che cosa ci aspettiamo discuteremo in Parlamento ascolteremo le parole del professor Monti che voglio ringraziare di cuore per come ha affrontato questa questa novità impegnativa con grande determinazione grande stile grande rapidità ascolteremo le sue parole ma noi sappiamo già qual è il punto adesso il primo punto è che il volto dell'Italia riprenda il suo profilo in Europa e nel mondo e che noi si riesca come dire a essere europei via via non solo per gli spread ma essere europei anche per tratti di civiltà e di cittadinanza sui quali forse abbiamo preso dei colpi abbiamo perso del tempo abbiamo preso delle distanze io credo che il tratto sobrio competente di questo governo rappresenti di per sé anche il segno di un cambiamento un cambiamento che va rivendicato alla buona politica una svolta allora e poi il segretario ha anche fatto insomma ha avuto una una spiegazione soprattutto con alcuni cronisti insomma che gli facevano determinate domande sulle misure proprio su quello che è la politica in questo momento sull'idea che ne viene fuori sentiamo cosa ha detto noi abbiamo avuto qui un splendido raccordo nella fase di allestimento di questa compagina ciascuno ha fatto il suo io vorrei anche ricordarlo è cosa da poco che ciascuno abbia fatto il suo nel quadro della Costituzione Repubblicana oggi si è detto ma dice non uscivano per le firme ma non è stata anche la riscoperta di quel che dice la Costituzione il Presidente della Repubblica il Presidente incaricato che hanno i loro compiti ecco allora fin qui c'è stato un rapporto certamente i gruppi parlamentari hanno un compito certamente rilevante lo svolgeranno ci vuole un rapporto fisiologico fra un governo i ministri le commissioni parlamentari capigruppo delle commissioni parlamentari cioè la Costituzione e le istituzioni hanno tutta l'attrezzatura non a caso non esiste in Costituzione la figura di un governo tecnico sarà un governo fa a forte come dicevo a forte carattura tecnica ma è un governo dico anche di più siamo nell'eccezionalità ma quando arriveremo diciamo così a una fisiologia guardate che un partito come il PD non pensa che nel futuro debbano essere i governi fatti col bilancino dei partiti eh si è chiaro ripeto siamo nell'eccezionalità e quindi ci può essere come dire un elemento di misura corrispondente all'eccezionalità ma perbacco nel futuro non dobbiamo immaginare si parli di giunte comunali piuttosto che di governi nazionali anche all'idea che questa separazione o politica o tecnica non deve più esistere in natura una cosa così la politica deve sapere il suo ruolo ma anche il suo limite e facesse sta politica una riforma elettorale facesse i regolamenti facesse un po' di queste cose qua che se non le facciamo adesso in questa situazione non ho capito quando possiamo farle perché prendiamo sempre sulla difensiva questo tema questo è un punto nella prospettiva è un punto molto secondo me molto importante Bersani ha anche detto di essere molto soddisfatto per come ha lavorato il Partito Democratico e per questo ha ringraziato tutti i vari esponenti del partito allora sentiamo proprio le sue parole il Partito Democratico è sempre attaccato da alcuni termini sofferenza nel Partito Democratico divisione nel Partito Democratico disagio nel Partito Democratico travaglio nel Partito Democratico io con i tormentoni sono abbastanza di casa e propongo di metterlo in giro un po' anche questo lo faremo con grande autoironia perché il PD è stato compattissimo in tutta questa vicenda certo è un partito che discute bisogna abituarsi compattissimo è stata una forza solida e non è un caso qui ne discuteremo questa realtà deve far riflettere su una questione sistemica o andiamo una democrazia dove le forze politiche sanno discutere al momento giusto decidere e mostrare generosità per il Paese o torniamo io non voglio essere ritrospettivo torniamo a dei riti che ci hanno portato fuori strada e quindi io sono orgoglioso del mio partito per come ha condotto questa fase e io ringrazio tutti quanti tutti i dirigenti del mio partito che hanno dato una mano in un passaggio molto complicato Bersani ha voluto fare anche una insomma ha voluto ritornare proprio su Amato su una lettura che era stata data appunto dal giornale in questi giorni proprio oggi ha detto appunto di stimare Amato e ha detto appunto che non ha mai pensato che non rappresentasse il PD e la sentiamo sui giornali ho letto stamattina alcune cose a proposito diciamo di questa vicenda Giuliano Amato dove mi si attribuiscono cose che non penso vorrei precisare non ho mai detto e neanche pensato lontanamente non solo che Giuliano Amato ovviamente non avesse esperienza competenza per qualsiasi ruolo ma neanche che non fosse in grado di rappresentare la grande tradizione riformista cui il PD vuole ispirarsi sia chiaro questo punto se ci sono stati problemi relativi al fatto che quelle ipotesi è state avanzate in un sistema diciamo di criteri e di condizioni che non corrispondeva a quello che avevamo in testa noi tutto qua ecco su questo io voglio essere chiaro perché la mia stima per Giuliano Amato è grandissima grazie torniamo ancora al Ministro al Governo Monti alcune differenze il Governo Monti ha 16 ministri più l'intim dell'economia mentre il Governo Berlusconi quarto aveva 23 ministri le differenze sono passere alle deleghe di sviluppo infrastrutture che prima invece erano le mani dei ministri Romani e Matteoli Fornero alle deleghe di lavoro e pari opportunità prima nelle mani di Sacconi e Carfagna scompaiono i ministri per l'attuazione del programma appunto di governo che erano appunto le mani di Rotonde la pubblica amministrazione le mani di Brunetta le riforme per il federalismo le mani di Bossi e appunto della gioventù con la Meloni e infine quello della semplificazione normativa di Calderoli nasce invece il ministro per la cooperazione internazionale e integrazione appunto che sarà con Ministro Riccardi ma sentiamo quali sono state appunto le reazioni proprio a questo Governo Monti soddisfatto il PD il terzo polo il popolo della libertà meno la Lega sentiamo perché nasce il Governo Monti e non tardano ad arrivare le reazioni politiche le parole più usate sono state compiacimento soddisfazione responsabilità a dirlo un po' tutti i nostri politici di tutti gli schieramenti direi che la compagine meglio di così non poteva essere e anche per i leader di Alleanza per l'Italia Francesco Rutelli con la nascita del Governo Monti inizia una nuova epoca politica positivo il commento del Presidente della Camera Gianfranco Fini che esprime felicitazioni e vivo apprezzamento per la capacità con cui Monti ha superato la prima impegnativa prova e sottolinea come la scelta dei ministri sia stata fatta unicamente in base alla loro grande competenza e al loro indiscusso valore professionale soddisfatto anche il senatore del PDL Beppe Pisano sostenitore di un Governo di Largentese per lui il Governo Monti è molto qualificato ed equilibrato mentre per Fabrizio Cicchitto capogruppo PDL dalla Camera il 63esimo Governo Italiano è indubbiamente una lista di ministri di alto livello qualitativo dalla prossima settimana in poi vedremo cosa farà il Governo all'opera con le stesse riserve il leader dell'Italia dei Valori intendiamo dare fiducia che questo Governo si costituisca e possa finalmente operare per valutare nei fatti ciò che intende fare e con quale equità sociale e giustizia sociale intende farlo a chi proprio non va giù questo Governo invece è la Lega Roberto Calderoli coordinatore della Segreteria Nazionale dice se il buongiorno si vede dal mattino allora è notte fonda e sarò felice di votare contro la fiducia al prossimo esecutivo e rincara nulla da eccepire sulla qualità e sul livello delle singole persone nominate ma il riscontrare la nascita di un Ministero per la coesione territoriale significa aver creato il Ministero del Centralismo Ricordiamo il servizio di Agnese Rapicetta poco fa è iniziato il primo Consiglio dei Ministri a guida Mario Monti tra l'altro poco fa è anche giurato Antonio Catricalà che è stato nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio vediamo pure anche come l'Unione Europea vive questa nomina soprattutto il cancelliere tedesco Angela Merkel ha detto che incontrerà Mario Monti non appena questi sarà insediato come Presidente del Consiglio quindi insomma a breve tra l'altro insomma il portavoce della Cancelliera fa sapere che la Merkel tiene in grande conto la qualità appunto del Presidente del Consiglio in pector e poi ancora la cosa più importante invece per la Commissione Europea è il programma del nuovo governo questo costruirà la base per i contatti fra Bruxelles e il nuovo esecutivo l'ha detto appunto il portavoce del Commissario Alirene che non ha voluto però commentare appunto la più recente evoluzione della situazione politica in Italia mentre il Presidente del Consiglio Europeo Herman Barrumpoy avrà un colloquio con Mario Monti tra oggi e domani compatibilmente con quella che è l'agenda molto fitta delle Premier queste sono le ultime notizie allora anche oggi il PD oggi termina qui vi dà appuntamento a domani alla stessa ora grazie per averci seguito una buona serata a tutti grazie a tutti